ciao a tutti benvenuti all'appuntamento con tale degli scacchi video breve su una partita eccezionale del nostro francesco sonis agli europei a squadre campionati europei a squadre di scacchi l'italia sta giocando un ottimo torneo devo dire incommiabile abbiamo affrontato oggi l'azerbaijan forza numero uno del torneo che sta andando male però ok sony si affronta al bassov candidato al titolo mondiale si è qualificato attraverso la world cup se carsen dovesse firmare il contratto di rinunzia ai candidati al bassov sarà uno dei candidati al titolo mondiale del francesco sonis con i pezzi neri da affrontare un fortissimo giocatore con cento e quindici punti elo in più a bassov apre uno d4 cavallo f6 di francesco cavallo f3 e 6 vuole provare a rientrare una ninja indiana però a bassov gioca il london system il london system e vediamo quale sistema anti london si è inventato il nostro francesco gioca b6 vuole entrare in uno schema ovest indiana e3 tipica del london system vesco in fianchetto vesco in d3 mossa di sviluppo a pappagallo un po tipico sviluppo dell'london system il cavallo andrà in d2 la rocco corto c3 poi e4 london system è da prendere con le pinze perché spesso lo si sottovaluta ovviamente io dico sempre ai novizi di non giocare solo london system perché altrimenti non imparate a gestire la tensione tra i pedoni ok bene è un sistemino solido però per chi vuole imparare è meglio iniziare d'altro questi sono sistemi che devono giocare giocatori già più esperti a bassov è esperto perché insomma è candidato al titolo del mondo quindi io qui gioco sempre vescovo d6 in questo schema o anticipata o ritardata ok per andare un po a rompere le scatole al vescovo delle case schiure ok è una mia idea che sia buona o no non lo so comunque è un'idea interessante però francesco va avanti col piano tipico di giocare c5 per andare a creare già tensione tra pedoni bene h3 qual è l'idea di h3 crearsi lo sportellino per il vescovo ok perché generalmente il neo può anche fare la manovra cavallo h5 e su vescovo g3 catturare la coppia vescovo e7 francesco sviluppa tranquillo arrocco corto e qui sberlucco al centro presa presa arrocco corto mettere al sicuro francesco torno nel pernigotto in e1 sulla colonna aperta la case e5 è sempre del nero contro l'on non vanno bene anche sistemi con d6 ok su casa scura per togliere questa casa però qui francesco sta giocando su casa chiara casa chiara casa chiara casa chiara casa chiara case chiara ok sono due modi di giocare a scacchio su casa chiara o su casa scura e ci sono due modi per affrontare le case chiara o le case scure o contrapposti casa chiara contro casa chiara quindi combattere o casa scura contro casa scura quindi combattere sulle stessi sui stessi colori oppure giocare su colori contrapposti uno sulle case chiare o sulle case scure e l'altro viceversa ok bene signori qui vescova 6 francesco ancora in preparazione casalingua anche se è considerata una novità adatta base ma credo che sarà sempre parata perché è la migliore del motore avete visto è la migliore del motore vescova 6 ma non ci sono partite giocate quindi piena preparazione casalingua a4 ok al alfa 0 di abaso sberlucco sberlucco cavallo c6 c3 qua con c3 chiaramente il bianco vuole solidificare la posizione h6 mossa d'attesa cavallo bd2 finisce lo sviluppo a6 lentamente 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 toglie caso ok quindi il nero sta comunque giocando anche per una patta non è che sta giocando per vincere a5 donna in c8 perché sulla ricattura vuole ricattura di donna per non sfaldare troppo la struttura qui non vuole cambiare pezzi abaso è più forte e quindi vuole cercare di vincere quindi non cambia pezzi minaccia il doppiazzo donna in b7 cavallo in e3 lo ricicla ok ora il bianco vorrà ammassare tutti i pezzi sull'adira francesco minaccia il vescovo vescovo va nello sgabuzzino d5 d5 di punta ruolo ovviamente chi gioca su case chiare deve prendere in considerazione anche blocchi di case chiare quindi d5 serve anche perché non c'è più il vescovo delle case chiare di fianchetto la casa e4 va controllata e anche la casa c4 soprattutto la casa e4 perché il nero ha già la casa e5 sotto controllo quindi bisogna non bisogna concedere troppo qui g4 siccome il centro è fissato non bloccato è fissato a questo punto il bianco decide di andare traccotante sulla lala di re ok cavallo f6 avanti quei puntarruoli h4 a basso b io sono candidato al titolo mondiale tu sai un mangia pasta asciutta non la vuoi da me che cosa vuoi da me e io ti attacco quei puntarruoli ah sì bene qui cavallo h7 cosa serve cavallo h7 proprio per impedire l'artura completa dell'arrocco ok controllare tre volte la casa g5 e qua il bianco ha un piano quello di giocare probabilmente re g2 far passare il trone per nigotti può essere provare cavallo g2 e buttare addosso anche di pedoni pure direttamente f4 e ci sono diversi piani quindi bisogna stare molto attenti qui francesco gioca la donna d7 sta già preparando a difendersi tutte le case eh cavallo f5 infatti è arrivata f4 attenzione di puntarruolo vescovo d6 adesso stoppa l'idea di f5 perché il vescovo è sospeso reggi 2 cavallo in e7 cavallo in e7 porta un altro pezzo a controllare il rettangolo però ecco ricerca un po' nel rettangolo non ci sono pezzi è vero però ci sono tanti pezzi dentro il rettangolo che controllano da lontano ok il rettangolo è meglio occuparlo però è anche buono controllarlo qui torna per nigotti in e2 spinta in f5 vuole bloccare la spinta f5 del bianco invitare a spingere in e5 bloccare il gioco infatti il bianco spinge in g5 qui cavallo g6 prova a migliorare il pezzo minaccia il pedone f4 i forti giocatori ad ogni mossa hanno un'idea di quello che fanno ok torna per nigotti difende il pedone sberlucco sberlucco donna in c7 ancora pressione sul pedone f4 raddoppia i toroni per nigotti difende e qui sacrificio di pezzo di suoni sacrifizio di pezzo ma non è un sacrifizio perché dopo la presa cade il vescovo ok però il motore non piace vediamo perché presa presa e qui il bianco avrebbe un'intermedia devastevole cavallo per pedone attacca la donna e se si ricattura il cavallo si può ricatturare il vescovo e la gioca bianco cavallo per vescovo per f2 perché chiaramente sulla ricattura del cavallo c'è donna per g3 e l'abbiamo appena detto che è un gioco pari però qui francesco decide di sberluccarci una bella qualità a costo della donna ha sacrificato la donna ha sacrificato la zona ma no c'è il doppiazzo scacco con la cornacchia sberlucco sberlucca ancora con scacco attacca il cavallo sberlucca ancora un pedone ridà la qualità presa presa ok sonius che cosa ha fatto ha ridato indietro la qualità in più che aveva per avere un pedone in più qui abbasov cerca di spaccare un po' il duo pedonale spinge francesco attacca il cavallo abbasov cavallo non va in c4 perché dopo la presa la presa torre in b6 poteva risultare pericolosa soprattutto per il pedone c4 ok avanza col re torre pernigotti inchioda il pedone pronto a fare qualche reazione c4 avanti di puntagolo sberlucco sberlucca di cavallo adesso la spinta non è più possibile cavallo c5 scacco non si può prendere perché c'è la torre dietro che inchioda il re sposta il re scacco sposta ancora il re scacco scacco sonius pensa fa credere all'avversario di ripetere le mosse e invece per il bello cappellone adesso sa qui il nero è in vantaggio però non è ancora facile da concretizzare infatti il torre pernigotti entra come ho detto io in b6 perché questi pedoni sul traversino fanno un po' schifo ok esce di cavallo sposta il re abasov perché abasov non sberlucca per non prendersi il doppio ovviamente il doppio di cavallo in c5 perché il pedone non può catturare anche l'altro ok sposta il re attacca il cavallo sonius difesa un po' di mosse per guadagnare tempo sul loro ruolo e poi soniusi da scacco abasov prova a scappare avanti di punta a ruolo pedone passato pedone fortunato e qui blunders sberlucca il pedone ma qui il pedone qui promuove f3 abasov pensa di averlo salvato di aver salvato la promozione torna indietro cavallo c4 si avvicina con il re spinge di punta a ruolo la torna se ne deve andare è qui basterebbe tagliare fuori il re e poi giocare torre in e1 e si promuove abasov forse pensava di poter salvare tutto con magari parlando anche con il cavallo ok torna indietro col cavallo ma arriva torre e 1 abasov praticamente quasi perso da scacco la disperazione è desperato scacco scacco torna indietro il cavallo sonis sberlucca il pedone e qui attenzione se si fa donna probabilmente non si vince più probabilmente non si vince più il motore dà ancora un piccolo vantaggio al nero ma questi pedoni passati sono forti adesso il cavallo si sacrificherà sulla donna ok vediamo se sonis è così bravo da trovare torre di 1 a migliore del motore e la gioca signore la migliore del motore inchioda quel cavallo e adesso la promozione non la può più fermare nessuno se retrocede con il re prende con scacco e perde un pezzo non si può fare nulla non si può fare nulla e abasov ha abbandonato quindi candidato al titolo mondiale ma avremmo il torno dei candidati un peppino meccanico signori comunque grande Francesco Sonis che ha deturpato il London System con i pezzi neri grande Sonis ok bene mi raccomando non giocate al London System con questo è tutto mi raccomando like e descrizione ciao e arrivederci